Si deve riciclare creando lavoro, è un'assoluta necessità, è un'assoluta necessità perché il nostro sistema è ormai arrivato e ha superato un punto critico per quanto riguarda la gestione dei materiali, è un sistema che si basa molto sull'usa, consuma e getta e il modello dell'usa, consuma e getta è un modello che non è più sostenibile, ragion per cui è obbligato pensare a quella che in questo convegno viene definita, ma non in questo convegno da tanti, economia circolare, che è quella del riuso dei materiali, di un loro riuso intelligente, il che ovviamente genera lavoro, è quello su cui siamo impegnati. Le campagne per la raccolta differenziata, le campagne per il riciclo dei materiali sono campagne che riescono, se vengono investite risorse, se c'è una volontà politica precisa nel sostenerle, ma anche se c'è una condivisione diffusa da parte dei cittadini, quindi è essenziale che i cittadini siano coinvolti e si sentano protagonisti di questo tipo di campagna. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi invito per aver organizzato questo importante momento di discussione, anche molto partecipato. Ringrazio il Sindaco e Valeria per l'ospitalità. A me è stato chiesto dentro questo tema che è più complesso, che è quello dell'economia circolare, di presentare... farò una sintesi, poi vi lascio le slide, oggi pomeriggio poi ci ci sono dei tavoli in cui sarà possibile approfondire anche meglio gli aspetti brettamente tecnici del nostro piano, di lutterare tutto con quella della proposta che è una regionale di rifiuti, proprio quest'ottica di costruzione di metodologia circolare che, diciamo, stravolge un po' quella manifestazione che abbiamo dato, che c'era fino nel passato. Mi sono molto d'accordo con quanto ha affermato il Sigan nella sua reazione su tutto, recuperare i nostri uffici, condividendo anche il lavoro con Anci, recuperare al massimo tutto quello che si può recuperare come materia, soprattutto materia e poi energia, e ci stiamo dando. Il piano è adesso, è stato approvato in giunta per fare un piccolo percorso e dargli anche la possibilità poi di poter ancora intervenire. Me ne faccio il cuore, non muove velocemente, però il piano si basa sui dati che noi abbiamo in possesso come regione di Guglia e partono appunto dal considerare la regione di Guglia dentro un panorama nazionale, per capire noi come siamo messi e come ci possiamo muovere. Porto Ispra, queste sono le caratteristiche della situazione regionale. Abbiamo puntato moltissimo su quelle che sono le criticità della situazione esistente per il piano cercare di superarle. Io dico anche che forse le criticità da cui partiamo possono diventare un'occasione per costruire un piano davvero innovativo, forse anche di più rispetto a regioni che oggi sono più avanti di noi nel ciclo dei rifiuti, anche soprattutto in cui la popolazione è più valente, molto significativi durante la stagione estiva e non sono. L'altro aspetto critico su cui dobbiamo partire, da cui dobbiamo partire e da cui cerchiamo di superare, ma qui con alcune difficoltà, secondo me è una strada che potrebbero perseguire e l'altra strumentazione dei modelli gestionali decidi, soprattutto della raccorda differenziata in modo in Italia. Su questo abbiamo appena presentato un esempio che è quello dell'Unione dei Comuni della Valle Scura, che ci ha fatto capire come è possibile raggiungere risultati ottimi, fra l'altro senza aumentare la gariffa, in un'area o cugina di comuni che lavorano insieme. L'altro aspetto, diciamo, critico è la percentuale di raccorda differenziata di medio livello che i risultati li vedremo nel corso di quest'anno e soprattutto nel prossimo anno di scarica. Ecco, questo è importante perché il nostro piano punta a eliminare la discarica, rimarranno anche nel periodo transitorio, quando si arriverà poi, diciamo, l'impiattistica definitiva. La discarica credo che sia, non so, poi gli esperti sono più bravi di me, credo che sia l'esatto contrario del concetto di economia circolare, quindi il superamento, oltre al fatto che le direttive ce le impongano, è sicuramente un atto. Migliorare il sistema di intercettazione e portare quindi al 65% la raccolta differenziata. Grazie. 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 Grazie.